pace e bene a tutti apriamo quest'oggi un nuovo scorcio sulla filosofia parlando del primo capitolo della teoria generale dello spirito come atto puro di giovanni gentile questo primo capitolo si intitola la soggettività del reale e consiste in un corpo a corpo che gentile intrattiene con la dottrina di giorgio berkeley così si esprime gentile e in qualche modo in questo primo capitolo gentile fa questa cosa qui espone con sue parole la dottrina di giorgio berkeley che consiste nell'affermazione vedremo della idealità del reale e gentile mette in luce i limiti e le le grandezze di questa teoria proposta da berkeley vedremo che berkeley ad avviso di gentile non è in grado di portare a coerenza questa sua teoria l'idealismo gentiliano consiste nel tentativo di portare a coerenza di far fronte alle esigenze speculative che berkeley aveva saputo mettere sul tavolo con la sua teorizzazione della idealità del reale ma partiamo dal principio in cosa consiste questa dottrina berkeleyana dell'idealità del reale consiste in ciò osserva gentile secondo questa teoria la realtà non è pensabile se non in relazione con l'attività pensante per cui è pensabile cioè per dirla in termini hegeliani la realtà è sempre mediata dal pensiero non trascende mai il pensiero la realtà non è concepibile se non in relazione all'attività di un soggetto che la pensa anche quando pensiamo le cose come separate come trascendenti come indipendenti rispetto al pensiero che le pone in realtà noi le stiamo pensando come indipendenti rispetto al pensiero che le pone e quindi anche quando le pensiamo come indipendenti rispetto al pensiero in realtà le poniamo sempre in relazione con l'attività pensante che pone la realtà in quanto la realtà è sempre idea in ciò consiste l'idealità del reale in ciò consiste il principio fondamentale di tutto il pensiero di berkeley osserva gentile e questo principio fondamentale il principio dell'idealità del reale è il principio fondamentale entro il quale si muove non solo berkeley ma anche gentile stesso il problema è vedremo che berkeley non ha saputo far fronte fino in fondo alle esigenze speculative di questo suo stesso presupposto ecco quindi il principio fondamentale del discorso berkeleyano cioè l'idealità del reale ci dice che l'oggetto anche quando è pensato al di fuori del pensiero in realtà è sempre idea è sempre in relazione all'attività pensante che pone questa realtà da tutto ciò deriva che è un assurdo intendere la realtà come materiale proprio in quanto la realtà è sempre interna alla mente quindi è sempre idea e quindi non è realtà materiale anche quando è concepita come realtà materiale la realtà materiale è un pensato e quindi è un'idea è un'idea inoltre la realtà proprio in quanto è sempre ideale proprio in quanto è sempre in relazione con l'attività pensante che la pone non è mai trascendente rispetto all'io che appunto coglie la realtà pensa la realtà è spettatore nei confronti della realtà non è ammissibile è contraddittoria osserva gentile è contraddittoria l'ammissione di una realtà che esiste al di fuori della mente noi non possiamo concepire una realtà che trascende la mente che sta al di fuori della mente che la pone dunque da tutto ciò deriva che possiamo parlare solamente di cose percepite e quindi le cose sono sempre idea idea che non è concepibile al di fuori della relazione con l'attività pensante che pone la realtà come idea la realtà è idea in ciò consiste appunto la tesi dell'idealità del reale proposta da berkeley questa tesi sviluppata da berkeley accolta da gentile osserva gentile difficile da determinare esattamente cioè è difficile far fronte fino in fondo a questa teoria così dirompente che berkeley ha scoperto e infatti lo stesso berkeley una volta che ha espresso questa teoria dell'idealità del reale in realtà non la sa far maturare non la sa portare a coerenza ma anzi berkeley ad un certo punto nega questa sua stessa teoria dell'idealità del reale e come fa berkeley a negare questa sua teoria dell'idealità del reale contraddicendosi perché berkeley ad un certo punto ammette una forma di trascendenza da un lato afferma la tesi dell'idealità del reale per la quale è contraddittorio ammettere una realtà che trascende l'attività pensante che la pone ma in ultima istanza berkeley tradisce queste sue premesse ed introduce contraddittoriamente anche lui una forma di trascendenza gentile intende sviluppare un idealismo che sa portare fino in fondo la tesi berkeleyana dell'idealità del reale portare fino in fondo la tesi berkeleyana dell'idealità del reale significa per gentile sviluppare un idealismo che non ammette in alcun modo delle forme di trascendenza questo al punto berkeley invece non sa far fronte all'esigenza speculativa che che egli stesso ha posto a fondamento del suo pensiero perché in ultima istanza anche berkeley non resiste e ammette egli stesso una forma di trascendenza contraddittoriamente stando alle premesse stesse del suo discorso e come fa berkeley a introdurre contraddittoriamente una forma di trascendenza in questo modo allora intendiamo da principio l'io spettatore della realtà come io finito per esempio un singolo uomo inteso come un io spettatore della realtà la realtà è sempre in relazione all'attività pensante dell'io finito che percepisce appunto la realtà no quindi questa penna è idea idea in quanto questa penna non può essere intesa se non in relazione con l'attività pensante di io che appunto sto percependo questa idea e io sono un io finito cioè io non colgo tutto non sono onnisciente onniconoscente eccetera eccetera bene sono un io finito tutto il reale è da intendersi come tutto il reale che percepisco è da intendersi come un oggetto in relazione a questo io finito che sono io e che percepisco il reale idealità del reale domanda berkeleyana io in quanto spettatore finito del reale sono a mia volta parte di questo reale del quale io sono spettatore cioè berkeley si chiede l'io finito può essere a sua volta oggetto di conoscenza da parte di se stesso no è la grande domanda della percezione della autocoscienza no tutto il reale è percepito dal soggetto e quindi è oggetto per un soggetto ma il soggetto che percepisce il reale può essere a sua volta inteso come oggetto per se stesso in quanto soggetto finito che percepisce il reale no questa è la grande domanda berkeleyana che dà origine alla contraddizione interna al pensiero di berkeley ripeto berkeley si chiede l'io finito che percepisce il reale può essere a sua volta oggetto di conoscenza può essere a sua volta inteso come un pezzo del reale berkeley e qui sta l'errore risponde si l'io finito può pensare se stesso come oggetto dunque l'io finito stesso non è solamente soggetto spettatore del reale ma è anche un oggetto tra gli oggetti ma è anche un oggetto tra gli oggetti che può essere percepito empiricamente e proprio per questo serva gentile l'idealismo berkeleyano è un idealismo empirico in quanto intende anche il soggetto spettatore della realtà come un oggetto empirico che può essere appunto oggetto di conoscenza di sé ed è proprio qui che berkeley cade perché perché berkeley osserva gentile può ammettere che il soggetto finito è anche oggetto in quanto questo soggetto oltre ad essere uno spettatore surreale è anche a sua volta veduto da un altro spettatore che lo trascende e che è dio il soggetto finito può essere può rappresentare se stesso come oggetto in quanto questo soggetto finito è oggetto per un altro soggetto il soggetto divino che è uno spettatore assoluto che coglie ogni cosa e questo spettatore assoluto che è il soggetto divino intende i soggetti finiti come un oggetto e i soggetti finiti possono apercepire se stessi possono conoscere se stessi come oggetto in quanto i soggetti finiti oltre ad essere spettatori della realtà sono anche oggetto oggetto per un soggetto infinito dio che conosce ogni cosa ecco che per poter intendere il soggetto come un oggetto empirico idealismo empirico rappresentabile determinabile berkeley deve ammettere un soggetto trascendente i soggetti finiti un soggetto infinito divino ed è proprio in questo sguardo del soggetto infinito che i singoli soggetti finiti vengono intesi come oggetti empirici e proprio per questo i soggetti empirici possono rappresentare se stessi come oggetti empirici ecco che la condizione di possibilità della rappresentazione di sé come oggetto da parte del soggetto finito è un soggetto infinito trascendente che appunto coglie questi soggetti finiti come oggetti ecco questo è il punto qui berkeley cade qui berkeley cade ripeto quindi la questione è questa berkeley si pone la domanda come posso pensare il mio pensiero finito anzitutto si chiede posso pensare il mio pensiero finito come un oggetto risposta sì posso pensare me stesso come oggetto in quanto io stesso sono oggetto per un soggetto infinito che mi trascende in questo modo berkeley riduce il soggetto finito a oggetto per un soggetto trascendente e questo è il grande errore e questo è il grande errore berkeley non capisce ad avviso di gentile che quando intendiamo il soggetto finito come oggetto non stiamo intendendo non stiamo intendendo il soggetto il soggetto non è riducibile a oggetto il soggetto empirico inteso come corpo inteso come oggetto che può essere fotografato guardato allo specchio studiato dall'anatomia non è affatto il soggetto non è affatto il soggetto il soggetto è trascendentale non è parte del mondo non può essere in alcun modo oggetto oggettivato berkeley ritiene che il soggetto sia non solo spettatore ma anche un oggetto che può essere veduto e che è veduto anzitutto da dio che è spettatore di ogni cosa mentre gentile si dice che il soggetto empirico che berkeley intende come l'autentico soggetto in realtà il soggetto empirico è un oggetto mentre il soggetto propriamente detto che è trascendentale non è riducibile in alcun modo a oggetto non è riducibile in alcun modo a oggetto e quindi non è possibile che ci sia qualcosa che sta al di fuori alle spalle del soggetto che lo guarda come un oggetto in quanto il soggetto trascendentale è assolutamente intrascendibile noi possiamo intendere il soggetto come trasceso da qualcosa e quindi come riducibile a oggetto solo in quanto intendiamo il soggetto come qualcosa di empirico idealismo empirico berkeleyano ma in realtà il soggetto inteso come oggetto non è il soggetto non è il soggetto questo è il punto e quindi questo sta il passaggio no in ciò sta il passaggio l'idealismo berkeleyano è un idealismo a metà un idealismo che ammette ancora la trascendenza misconoscendo se stesso in quanto è un idealismo empirico cioè intende il soggetto non solo come spettatore ma anche come oggetto mentre l'idealismo propriamente detto intende il soggetto non mai come un oggetto intende il soggetto come trascendentale come strutturalmente irriducibile ad un giudizio determinante ad una oggettivazione ecco questa comprensione che il soggetto propriamente detto non è empirico come riteneva ancora berkeley ma è trascendentale ebbene questa acquisizione viene avanzata osserva gentile da kant kant comprende il valore trascendentale irriducibile a oggetto da parte del soggetto ma kant lo comprende ancora in modo confuso non ne ha piena coscienza non ne ha piena coscienza gentile invece intende proprio portare a piena maturazione questa acquisizione kantiana ed è proprio la mancanza di questa acquisizione cioè il riconoscimento che l'io in quanto soggetto non è riducibile a oggetto è proprio la mancanza di questa acquisizione che fa di berkeley potremmo dire uno psicologo cioè appunto un idealista empirico e quindi non un autentico idealista ecco kant appunto per quanto in modo confuso osserva gentile comprende che quando consideriamo riflessivamente il nostro io finito stiamo considerando non l'attività trascendentale dell'esperienza cioè il vero io ma l'io empirico radicalmente diverso dall'io trascendentale e l'io empirico non è soggetto non è soggetto ma è un oggetto ecco questo questo al punto e questo punto berkeley non l'ha compreso e su questo punto berkeley va oltrepassato al fine di coerentizzare quel idealismo che sta appunto alla base del discorso dello stesso berkeley quindi da un lato berkeley distingue tra il soggetto del pensiero lo spettatore e l'oggetto del pensiero che è sempre in relazione ad un soggetto no idealità del reale ma dopo aver riconosciuto questa distinzione tra soggetto oggetto e aver riconosciuto che non c'è oggetto senza soggetto berkeley in realtà misconosce questa distinzione intendendo il soggetto come un oggetto tra gli oggetti no? per berkeley osserva gentile in modo molto efficace lo stesso soggetto proprio in quanto è empirico non è un soggetto concepito veramente come soggetto bensì è un soggetto esso stesso oggettivo e per tal modo abbassato ad uno dei tanti oggetti finiti che sono contenuto dell'esperienza ecco questo è il grande errore berkeleyano dunque berkeley da un lato intende il nostro pensiero come qualcosa di finito che sente i propri limiti così si esprime gentile dall'altra parte intende un soggetto infinito trascendente che è appunto dio e appunto per questo spettatore assoluto che è dio il soggetto finito è un oggetto empirico e quindi il soggetto finito è misconosciuto nel suo valore trascendentale ed è ridotto a mero oggetto è abbassato a uno dei tanti oggetti finiti dice qui gentile contro berkeley per questo osserva gentile da un lato berkeley sembra superare il naturalismo antico ma dall'altro ricade in questo stesso naturalismo cosa significa naturalismo antico per gli antichi osserva gentile la natura è presupposto al pensiero il pensiero è totalmente passivo rispetto alla natura insomma il pensiero è per il naturalismo antico nulla mera passività mera passività berkeley sembra invece aver superato il naturalismo antico nobilita il pensiero riconosce che la natura è sempre concepibile unicamente in relazione al pensiero che la pone il pensiero non è più nulla non è più qualcosa di meramente passivo ma il pensiero è la realtà stessa dato che la realtà non è concepibile se non in relazione al pensiero che la pone quindi in questo senso berkeley pare superare il naturalismo antico al contempo però berkeley riducendo il soggetto il pensiero finito ad un oggetto empirico fra gli altri ricade in questo stesso naturalismo riproduce così osserva gentile la posizione dell'antica filosofia e non arriva a concepire un pensiero che sia veramente creatore della realtà cioè esso stesso realtà no il pensiero finito essendo sempre un pensato da dio è qualcosa che non è creativo non è originale è insomma nulla è insomma nulla un mero raggio del pensiero divino vediamo qui la potenza dirompente di gentile di gentile per gentile il fatto che l'io non è altro che l'io finito non è altro che un mero raggio del pensiero divino è nulla è nulla no? se l'io non è qualcosa che può vantare creatività rispetto all'io assoluto l'io finito è nulla l'io finito è nulla e quindi si ricade nel naturalismo antico che intendeva il pensiero come nulla intendendo il pensiero finito come trasceso dal pensiero assoluto e come pensato dal pensiero assoluto il pensiero finito per Berkeley è ridotto a un mero oggetto cioè a nulla nulla in quanto non è pensiero e la realtà è invece pensiero secondo le stesse premesse dell'idealismo berkeleyano scrive ancora gentile nella stessa posizione di Berkeley il pensiero a rigore è niente Berkeley che da principio sembrava avere ridotto tutto a pensiero e quindi avere affermato la massima realtà del pensiero in ultima istanza Berkeley intende il pensiero come nulla perché reintroduce quella trascendenza che da principio aveva inteso come contraddittoria scrive ancora gentile contro Berkeley perché intanto il pensiero pensa in quanto quello che pensa è già pensato tutto ciò che il pensiero finito pensa è già pensato dal pensiero infinito che lo trascende e quindi è nulla perché è già pensato da altro in quanto il pensiero umano cioè il pensiero finito non è altro che un raggio del pensiero divino e quindi niente di nuovo niente di più del pensiero divino c'è essere solo se c'è pensiero creativo nuova posizione se invece il pensiero non è un mero raggio di ciò che è già pensato da ciò che lo trascende quel mero raggio è nulla essere raggio emanazione del divino per gentile non è nobilitante ma è riduzione a nulla dilompente questa posizione il nostro pensare è nullo già come pensare non solo non è realtà oggettiva ma neppure realtà soggettiva se esso fosse qualche cosa di nuovo il pensiero divino non sarebbe esso tutto il pensiero se appunto il pensiero finito fosse qualcosa di nuovo fosse qualcosa di creativo e quindi fosse qualcosa allora il pensiero divino non sarebbe tutto il pensiero ma dato che il pensiero divino è esso stesso tutto il pensiero il pensiero finito è ridotto a nulla il pensiero finito è ridotto a nulla questo è diciamo la contraddizione nella quale cade l'idealismo berkeleyano che per questo è idealismo empirico riduce a nulla il pensiero finito in quanto lo riduce a oggetto il vero idealismo invece deve intendere il soggetto come trascendentale cioè strutturalmente irriducibile a oggetto e quindi come creatività come qualcosa che è qualcosa proprio in quanto non è trasceso da altro e questa sarà la mossa che Gentile fa contro l'idealismo berkeleyano in nome di un nuovo idealismo più radicale più radicale e coerente con la tesi fondamentale proposta dallo stesso berkeley bene quindi il soggetto empirico gli occhi il cervello quella roba che puoi guardare allo specchio non è l'autentico soggetto non è l'autentico soggetto quello che vediamo allo specchio è parte del mondo e quindi non è il soggetto il soggetto non può mai essere determinato come parte del mondo non è un pezzo del mondo questo berkeley non lo capisce invece proprio questa posizione che canta ha avuto il merito sia pure confusamente di porre a tema ebbene questa è la posizione da sviluppare in nome di un autentico idealismo questa dice dice Gentile che scrive o che si guardi l'oggetto visibile la cosa questa penna o che invece si guardi gli occhi a cui esso è visibile questi occhi questo corpo che sono parte del mondo noi abbiamo due oggetti gli occhi che vedono la penna e la penna sono due oggetti non sono soggetto l'errore di berkeley è quello di avere confuso questi occhi che guardano le cose del mondo come il soggetto ma questi occhi essendo parte del mondo non possono essere soggetto ma sono essi stessi oggetti questo berkeley non lo capisce ecco quindi sia l'oggetto visibile sia gli occhi che lo guardano sono oggetti di una esperienza di una esperienza la quale noi stiamo attualmente realizzando e rispetto alla quale non solo l'oggetto ma anche il soggetto dell'esperienza che viene analizzata è oggetto se non che gli occhi nostri non possiamo guardarli se non nello specchio ma se gli occhi li guardiamo nello specchio cioè li possiamo determinare come pezzi di mondo non sono l'autentico soggetto invece per berkeley sì per questo berkeley è un idealista empirico e quindi non è un idealista e per questo berkeley introduce delle forme di trascendenza e poi scrive ancora gentile la coscienza in quanto oggetto di coscienza non è più coscienza convertita in oggetto apercepito la percezione originaria cessa di essere a percezione non è più soggetto ma oggetto non è più io ma non io ecco l'io inteso da berkeley essendo oggetto di esperienza è non io è non io berkeley non sa intendere la natura puramente trascendentale dell'io ecco insomma lo spettatore non può mai essere considerato da fuori non ci può essere un soggetto assoluto trascendente l'io finito in relazione al quale l'io finito è oggetto non ci può essere il soggetto se è soggetto è intrascendibile non può avere nulla al di fuori di sé se ha qualcosa al di fuori di sé in relazione al quale il soggetto finito è oggetto il soggetto finito non può essere soggetto ma è oggetto ma il soggetto finito invece deve essere inteso come soggetto e quindi non può avere nulla al di fuori di sé questa è la posizione gentiliana contro l'idealismo empirico di Berkeley ecco lo spettatore non può essere trasceso da altro nulla lo può intendere dal di fuori nulla può porsi alle spalle del soggetto ecco essendo spettatore il soggetto non può essere spettacolo di nulla di nulla questo Berkeley non lo capisce ecco solo appunto riconoscendo il valore trascendentale del soggetto si può conoscere l'essenza dell'attività trascendentale il soggetto è atto è attività ed è un atto che è sempre in atto che è sempre spettatore e che non è mai qualcosa di statico reificato perché non è mai un oggetto ecco l'idealismo empirico di Berkeley intende l'io come atto compiuto cioè uno spettatore che a sua volta può essere oggetto di visione un atto compiuto cioè non un soggetto ma un oggetto non io e questo è il grande errore questo è il grande errore Gentile comprende invece che il soggetto non è mai atto compiuto ma è sempre atto in atto atto che non si può assolutamente trascendere scrive Gentile e che non si può mai e in nessun modo oggettivare qui si dà il superamento dell'idealismo berkeleyano dell'idealismo empirico berkeleyano nel nuovo idealismo nell'attualismo gentiliano l'io non è atto compiuto non è mai oggetto ma è sempre atto in atto sempre spettatore e mai oggetto di uno spettatore che sta al di fuori di sé ecco quindi l'attualità dell'io per Gentile consiste proprio nell'impossibilità di concepire l'io come oggetto ecco se tentiamo di oggettivare la nostra spiritualità falliamo falliamo perché la nostra attività è attività in atto che non può mai essere trascesa da qualcosa in quanto non può essere mai fermata intesa come un ob objectum come qualcosa che sta di contro qualcos'altro qualcosa di statico che sta di contro qualcos'altro non è possibile non è possibile non è possibile contenere l'io oggettivandolo scrive ancora Gentile la vera attività pensante non è quella che definiamo cioè non è atto compiuto ma lo stesso pensiero che definisce quindi l'attività pensante non è mai atto compiuto ma è atto in atto non è mai io empirico ma è io trascendentale intrascendibile bene arrivati a questa posizione cioè riconosciuto oltre l'idealismo empirico berkeleyano che l'io è assolutamente intrascendibile che l'io finito è assolutamente intrascendibile in quanto atto in atto e mai atto compiuto posto ciò posta questa inoltrepassabilità questa intrascendibilità questa assolutezza dell'io finito berkeley giovanni gentile oltre berkeley sembra cadere nel solipsismo no e infatti gentile alla fine di questo primo capitolo si chiede proprio no affronta questo problema pratico del solipsismo sono un solipsista affermando l'inoltrepassabilità dell'io finito sto riducendo tutto all'attività in atto di questo io finito no no questa è la risposta gentiliana l'inoltrepassabilità dell'io trascendentale lungi dal farci cadere nel solipsismo c'è solo questo io finito è invece il fondamento della possibilità di un'autentica unione con l'altro unione con l'altro l'altro inteso nella sua spiritualità cioè inteso come atto in atto e non come oggetto contrapposto a me è un fatto spirituale è il fatto spirituale ha la caratteristica di non essere mai opposto a noi che cerchiamo di intenderlo se questa pietra osserva gentile è qualcosa di contrapposto a me qualcosa con il quale io non posso mai istituire un'autentica unità così come il corpo dell'altro come l'io empirico non può essere mai unito a me l'altro inteso come atto in atto è un fatto spirituale e il fatto spirituale è altro da me ma al contempo non è mai opposto a me e per questo l'unico modo per intendere compiutamente l'altro e intenderlo appunto come atto in atto perché due spiriti due coscienze due atti in atto sono sì intrascendibili ma al contempo stanno l'uno dentro l'altro perché il fatto spirituale non è mai opposto a noi ma è interno a noi questo è il punto e quindi l'assolutizzazione dell'atto in atto è la condizione di possibilità di riconoscere l'altro in noi e non è invece la negazione dell'altro questo è il punto scrive gentile in un passo pratico molto bello che consiste proprio nell'oltrepassamento del solipsismo ogni rapporto spirituale ogni comunicazione tra la nostra e l'altrui realtà interiore è essenzialmente unità unità questa è la vera unità la vera unità è il confronto con l'altro che è coscienza perché l'altro se è coscienza è in noi è originariamente unito in noi e non è mai esterno rispetto a noi in quanto fatto spirituale questa unità profonda noi sentiamo ogni volta che possiamo dire di comprendere il nostro prossimo in tutti quei momenti in cui non siamo semplice intelligenza e abbiamo bisogno di amare amare non ci si contenta di quell'attività astratta che si chiama mente ma ci occorre si dice la buona disposizione spirituale quella che si chiama comunemente cuore buona volontà carità simpatia apertura d'anima calore di affetto quindi se la coscienza della natura è appunto l'intendere qualcosa di separato inteso come obiectum come gettato di contro rispetto a noi la coscienza spirituale intende l'altro come fatto spirituale e quindi come unito a noi unità d'amore fondata sulla fiducia dice gentile con questa unificazione spirituale ci unifichiamo con l'anima altrui in quanto l'altro inteso come soggetto trascendentale non è mai oggetto non è mai qualcosa che sta di contro a noi ma è un altro che è in noi che è in noi in quanto strutturalmente irriducibile a oggetto obiettivabile ecco e quindi e quindi ci dice gentile con l'unificazione spirituale ci unifichiamo con l'anima che vogliamo conoscere in quanto la realtà di quell'anima consiste nella nostra anima medesima questo è un po' il punto pratico fondativo dell'autentico amore nel quale appunto sfocia questo primo capitolo della della teoria generale dello spirito come atto puro di Giovanni Gentile grazie grazie Grazie.